La recente edizione del Grande Fratello ha portato alla ribalta una storia d'amore che sta facendo discutere. Quella tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Durante una serata trascorsa insieme, Shaila ha rivelato dettagli intimi riguardo alla sua relazione con il pallavolista argentino, suscitando l'interesse e la curiosità degli spettatori. La Gatta, ex velina di striscia la notizia, ha condiviso momenti di confidenza con le sue amiche, creando un'atmosfera di gossip e intrigo che ha catturato l'attenzione del pubblico. Le parole di Shaila non sono passate inosservate. A me di lui piace tutto, è molto riservato e gentile, ha dichiarato, enfatizzando le qualità che l'attraggono. La Gatta ha anche accennato a momenti di intimità, descrivendo come si sia sentita pazza per Javier. Queste rivelazioni hanno alimentato le speculazioni su una possibile relazione romantica, mentre i due continuano a passare del tempo insieme all'interno della casa. La chimica tra i due è evidente, e i fan non possono fare a meno di chiedersi se questa storia d'amore si trasformerà in qualcosa di più serio. Il Grande Fratello non è solo un reality show, ma un vero e proprio laboratorio di relazioni umane. Le dinamiche tra i concorrenti possono cambiare rapidamente, e le confessioni di Shaila su Javier sono un esempio perfetto di come le emozioni possano influenzare le interazioni all'interno della casa. Mentre i telespettatori seguono con interesse le evoluzioni di questa storia, è chiaro che la tensione e l'attrazione tra Shaila e Javier sono destinate a diventare uno dei punti focali della stagione. La loro relazione potrebbe non solo intrattenere il pubblico, ma anche influenzare il pubblico.